allora in questo breve rottamodio che è un rottame d'episodio volevo parlare appunto dei dischi che diciamo così mi sono compricchiato in queste ultime due settimane non è assolutamente musica ricercata pazzesca incredibile come quella che voi pensate che potete potete pensare che io compro tutte le settimane in realtà c'è un misto di varie cose perché nella diciamo costruzione di una collezione di dischi ci stanno sia delle cose del genere che ti piace del contenuto che ti piace che sono eccelse come rarità e come qualità e ci sono cose che invece sono dall'altro capo posto della gradazione quindi per partire appunto con una di queste con un voglio voglio partire con un artista compositore degli anni 70 su Casablanca Records Mako che era famoso per aver fatto in versione disco la colonna sonora di Star Wars con Moondancer un album con ovviamente diciamo molto comune e guardate qua il discone della Casablanca Records ma che belli sono i dischi della Casablanca che li tiriamo fuori e qui c'è anche nell'edizione che ho comperato su discox da un dal seor che l'ha venduto come completo anche quello che si chiama l'indie sheet il foglio interno della Casablanca Records che è uguale a tutte e due parti quindi potevo farvene vedere una sola e bello quello che c'è la qui c'è la con una sorta di dichiarazione confessione del del sior meco che dice one night I dream that I was at the disco was unusual about the dream that the disco was on the moon and among the regular clientele there were creatures of the night allora bisogna spiegare due parole su questo tipo di produzione io quando ero piccino vi dico il mio nonno amato buonanima che mi manca tanto Star Wars quando uscì al cinema il primo e quando ovviamente per quel poco che mi ricordo da quello che sentivo dai miei genitori da quello che vedevo in tv e appunto da questo ed altri film di fantascienza che ho visto verso la fine degli anni 70 quando era ancora un bel pimpo ricordatevi io che nel 1980 avevo 13 anni vi do questo punto di riferimento quindi diciamo ho visto anche i blues brothers al cinema appena erano usciti ho visto grisa al cinema quando io e sempre il mio amato nonno abbiamo fatto la coda per andare a vedere questo film perché io battevo i piedi volevo che mi ci portasse e me come un dancer non è eccezione a quel trend di disco music che veniva fatta su ispirazione dei film di fantascienza che avevano un vero e proprio che erano un vero e proprio trend nella seconda parte degli anni 70 cioè mentre il r&b il soul e il funk nella prima metà degli anni 70 avevano prodotto delle gemme come Les McCann talking to the people mi sembra talk to the people che è un album spettacolare di funk blues che dovete assolutamente avere ed erano cose che avevano a che vedere con il hey what's going on di Marvin Gaye il concetto della realness la realtà c'erano pezzi come quelli di Stevie Wonder che erano abbastanza tristi adesso non mi ricordo più come si chiama quel pezzo che parla del bambino che nasce in una città e che avrà un destino da povero e tutta questa serie di realismo ha prodotto come contracolpo nella seconda metà degli anni 70 una sorta di escapismo di fuga verso delle cose fantasiose più gradevoli più piacevoli e più divertenti da vedere una di queste era appunto star wars un film che appunto in parallelo con gris ha avuto un grandissimo successo ed entrambi i film sono film di fantasia perché mentre star wars è un film ovviamente quando star wars ad esempio è un film fantastico che però si si basa tutto sulla possibilità sulla possibilità di farcela di combattere tutte le cose negative che ci sono in quel grande universo immaginario che è quello di star wars così anche in quello che è il grande universo micro universo scolastico di gris diventa diciamo tutto piacevole tutto bello anche il ismo diventa piacevole diventa divertente diventa fan diventa diventa matter of fun diventa fani e questo è quindi anziché un universo freddo dove abbiamo la striscia di kuiper belt che va a temperature che sono inimmaginabili per noi che viviamo sul pianeta terra esiste un bellissimo spazio dove sulla luna tutti cantano e ballano mentre un dj suona dischi disco in una bellissima disco lunare ecco questo è diciamo uno strascico di un certo tipo di pensiero della positività degli anni settanta che non dico che deve essere al centro della testa di tutti noi ma può rimanere lì in un angolino e costituire anche uno stupidino felice frammento di pensiero un'idea giusto un'idea che è lì e per ricordare anche la bellezza delle copertine dei dischi anni settanta passiamo adesso ad un altro bellissimo disco che mi sono comprato della fania records seghida questo è un disco molto bello perché a parte quello che è il disco che praticamente è un bellissimo disco di music di latin funk con qualche accenno disco perché qua se non sbaglio siamo nel 77 76 quindi qua c'è già la disco nella nei beat e nel groove del pezzo ma è molto bello perché questo disco ha a vedere più che con l'escapismo e con la realtà positiva che si può avere all'interno di una metropoli e soprattutto ricordiamo che la fania come la salsa sono etichette molto popolari a new york city e di quello che il rapporto che negli anni settanta avevano le persone musicisti con i loro genitori difatti parte sul retro di copertina c'è questa sorta di dedica I rode the subway e ho attraversato nella metropolitana all the way to the Bronx to see my mother stava andando al Bronx per vedere per andare la tua e mia mamma as I reach the corner of the block I hear latin rhythms I hear rock guitars and organs and brass I follow the sound as it gets louder and I realize the sound is beneath my feet underground but how can it be eccetera 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 questo parla di della vita di tutti i giorni però anche dei lati positivi di una realtà dura come quella del Bronx all'interno della quale passando per la strada quando si va a trovare la propria mamma che vive ancora nel Bronx noi invece troviamo dei suoni che sono così belli delle persone che suonano delle cose così belle e rimaniamo incantati da una realtà che è presente nel nostro territorio e che magari in quel momento o non conoscevamo o non ci sovveniva diciamo e questo è molto bello perché si sente come questa musica potrebbe essere suonata in una strada del Bronx ma perché no anche traducendo e traslando questo concetto nella... ah scusate non vi ho fatto vedere il bloghetto della Fania che è bellissimo nelle sue original edition guardate che belli i dischi della Fania originali e perché no perché no perché noi non possiamo diciamo tradurre questa sensazione questa cosa in una Londra attuale per cui si esce sulle strade magari quando il covid è finito e si ascoltano delle band o delle persone che dalla macchina suonano della musica incredibilmente bella e che rappresenta anche un po' magari non le mie origini perché io non sono nato a Londra ma ci sono venuto a vivere nel 98 ma ma vivo ormai così da abbastanza tempo qua da considerarlo un po' il mio territorio anche e a scoprire con piacere che alle volte ci sono dei bellissimi posti a portata di gamba dove io posso andare e ascoltare della grande musica senza necessità di comprarmi un disco raro della Fania che comunque mi compro sempre perché mi fa piacere comprarlo terzo disco si ritorna sulle nostalgie questo è Marzio allora Marzio è un famoso cantante degli anni sessanta in Italia e su questo chiamo in ballo gli specialisti di musica che conoscevano gli anni sessanta e conoscevano Marzio di persona cioè se non sbaglio anche un bel libro che parla che ho letto che non mi ricordo più come si chiama dove si parla della Bologna degli anni sessanta però questo è un disco del 1979-80 se non mi sbaglio vediamo la data Smoke on the Vulcano è appuntamento è appuntamento si è del 1980 è appunto il disco che contiene Vulcano che era una hit minore che si ballava in discoteca io mi ricordo che lo suonavano nei pomeriggi dove andavo con il mio amato nonno al mediterraneo di Pegli nella versione mix nella versione 12 inch questo è l lp Vulcano che è un pezzo in diciamo di sapore molto blues però ovviamente con un beat dance e su un ritmo abbastanza mi sembra triplettato c'è una una sonorità blues però un po' come Knock on Wood suonata suonata io adesso Vulcano me lo ricordo perché un pomeriggio appunto ero lì che facevo il famoso incrociato che poi non so se ve l'ho spiegato che cos'è un amballo in cui si muovono velocemente le gambe e si facevano poi anche delle pirouette ma l'incrociato era il ballo appunto in cui si incrociavano le gambe ballando muovendosi eccetera e mi ricordo che facendo l'incrociato a un certo punto il dj mette questo Vulcano che a me piaceva io avevo già il disco a casa perché ero andato nel negozio a comprarmelo perché me l'avevano proposto e mi era piaciuto e fu una bella sorpresa niente di che niente di che ma mi sono voluto comprare l'LP perché ovviamente nel singolo il pezzo è suonato molto bene ci sono c'è un piccolo asuolo di flauto un piccolo un bel giro di piano ci sono delle sonorità commercialissime ma le performance sono molto convincenti cioè come il disco è stato suonato è stato molto convincente quindi ho detto compriamo l'LP magari è un pacco magari no e ho messo già la puntina velocemente sui pezzi ovviamente non c'è da stupirsi sono estremamente pop estremamente pop disco però suonati tutti molto bene suonati da musicisti con sta voce di stomarsi ok è una delle cose più belle che abbiamo avuto in italia secondo me sia per ciò che riguarda la musica che ha fatto negli anni sessanta che per queste hit che ha fatto nella disco più tardi poi c'è un album che devo assolutamente che dovevo assolutamente comprare che voglio farvi vedere che è l'album dei free completely free questo è una formazione di contemporary jazz fusion almeno così la chiamo io ma magari è una definizione sbagliata però per quanto ci possa essere tanta jazz fusion che io non compro perché mi sembra un po' tutto uguale anche se ovviamente i musicisti sono bravi questo disco mi ha colpito e non è tanto forse per il fatto che Alexis Corner abbia promosso questa formazione nei primi tempi di musicisti che poi sono Andy Fraser, Paul Kossov, Simon Kirk eccetera ma proprio abbia diciamo selezionato i pezzi migliori anche con loro e li abbia fatti suonare in giro per i pub per i posti eccetera eccetera fino a quando poi non si è materializzata l'opportunità di registrare no? ecco io penso che questo sia anche il risultato degli sforzi degli INR della Highland Records adesso io non so quanti di voi avessero o volessero avere avessero nei loro sogni o volessero avere una major come la Highland Records però vi posso assicurare che io considero la Highland Records forse a torto una delle etichette più interessanti perché ha prodotto cose come i TomTom Club e ha prodotto cose come questo bellissimo album di Contemporary Jazz che vi consiglio di andarlo ad ascoltare su YouTube perché almeno per me è una cosa molto bella non costa neanche tanto e ho deciso di comprarmelo perché un collezionista non è solamente chi compra dischi rari e impossibili a prezzi assurdi o a prezzi bassi per poi tenerli fino a quando non raggiungono prezzi assurdi tramite cambiamenti di quotazioni inequiti ma è anche qualcuno che ha la passione incredibile per collezionare buona musica secondo i suoi criteri e secondo il modo con cui è cresciuto io ormai dopo tante rivoluzioni, tanti inviluppi e tanti cambiamenti di opinioni anche su tanti artisti sia in senso negativo che in senso positivo cioè comprando dopo tanti anni gente che non avrei mai pensato di comprare e smettendo di comprare addirittura vendere dischi di gente che pensavo che era così fondamentale per me soprattutto per i loro dischi diciamo non ho dubbi che questo disco al momento che costato 4-5 sterline quindi pochissimi 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 soldi è qua per starci e costano quasi più le spese di spedizione per averlo spedito qua a casa mia che altro la island quindi dicevo è una è una grandissima etichetta è stata una grandissima etichetta e consiglio a tutti di approfondire anche su wikipedia e se possibile anche con l'acquisto di libri e guardando documentari se ci sono o interviste quanto sia stata completa proprio a livello musicale quante belle cose hanno messe fuori e quante ancora ne voglio acquistare io dell'island perché è un'etichetta che nel pop, nel rock, nella new disco, nella disco rock, nel rock funk, nel funky rock in tutte queste cose ha fatto uscire delle cose molto interessanti qua invece abbiamo un bellissimo vinile del quarto mondo, dei fourth world noi sappiamo che esiste una formazione third world, un po' pop mi sembra però esiste il quarto mondo, la fourth world, che è la formazione di Flora Purim e Ayrton Morera con un setup di musicisti diversi cioè voi sapete che Ayrton Morera e Flora Purim hanno una discografia a loro nome, no? Flora Purim ha la discografia a suo nome, Ayrton Morera ha la discografia a suo nome e poi c'è questa formazione dei fourth world che ha dei dischi che sono assolutamente inimmaginabili a livello di qualità e di bellezza delle performance delle voci poi a me la Purim è sempre piaciuta tantissimo come canta, quello che esprime, come lo esprime Ayrton Morera per me è un grande dei grandi quindi io non ho assolutamente problemi a dire che compro i dischi di Ayrton Morera con la stessa passione con cui mi compro un disco di Duke Ellington, di un Don Alberto, di un Herbie Hancock o di un Ransom Lewis, assolutamente per me è un musicista di un talento eccezionale, un compositore, un creatore di talento incredibile questo è un disco bellissimo e io mi voglio comprare tutti i dischi dei fourth world che ancora non ho, anche se sono delle ciofeche perché non saranno mai così brutti come quelli brutti che sono fatti da persone con meno talento di Ayrton Morera e dei musicisti grandiosi che hanno, ecco la copertina è bellissima meravigliosa, divina un disco meraviglioso, divino, non costa neanche tanto ragazzi, se vi piace questo genere guardatelo, compratelo tra le altre cose, vi ripeto io di questo autore e della sua signora e di tutte le cose che ha fatto di qua e di là sono assolutamente convinto che ci siano veramente poche cose da scartare quindi dal momento che io non colleziono discografie complete non faccio il collezionista monografico di un artista semplicemente perché lo adoro perché se fa un album che non mi piace non lo compro qua è il caso inverso invece io in teoria non mi sono mai prefisso lo scopo di collezionare Ayrton Morera ma da quando ascoltai 25 anni fa il suo primo disco che era How Are You? How Are You mi sembra quello dove c'è il pezzo che aveva stato campionato per fare il pezzo house in Italia ta 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 se ascoltate l'LP originale è una ficata allucinante tutto l'album con un go, una roba cioè musicistica cioè va oltre le parole cioè più che l'entusiasmo più assurdo non so cosa esprimere un album mi mancano, non posso neanche dire performance superbe musicisti incredibili, canzoni super catchy che te le ricordi dopo due minuti tutto bello, tutto arrangiato bene ascoltatevelo alla fine la musica va ascoltata e invece per un trip back to memory lane mi sono ricomprato mi sono comprato un 45 di Rocky Roberts che era un personaggio pop degli anni 70 e aveva fatto questo bellissimo pezzo pop soul that's no way to treat me bellissimo questa è l'edizione su ariston l'ho già ascoltato e suona da paura allora due parole su questa produzione questo è un pezzo del 75 e 76 ah no, 77 però ancora il suono del 76 cioè quello snare e quel kick belli rotondi belli compressi registrati su tape quindi suoni un po' sfilacciati ma non troppo belli alla fine i suoni sono belli tight è tutto bello bello pieno bello warm warm e bassa basso batteria casse chitarra fanno da diciamo da base da sfondo o da completamento ha una canzone veramente bella che non so se sia una cover perché sono molto ignorante devo ancora controllare sulle varie enciclopedie e i vari libri specializzati che ho lì a sinistra e però è una canzone pazzesca c'è anche un bellissimo abbinamento tra la voce principale e il coro there's no way to treat me there's no way to treat me quel tono malinconico che c'era anche in due altre altri due o tre pezzi sempre del 76-77 che mi piace molto che è quello esprimere sensazioni un po' tristi però sempre con un groove con una spiritualità con una dinamicità no? ci si sono triste ma cioè cazzo ci do dentro no? e non lo so è una cosa che io trovo negli anni in questo periodo specifico degli anni 70 anche in pezzi soul boogie, pop che hanno questa sonorità sempre un po' tristina però con questo groove dinamico sotto che spinge che ti fa da ballare quindi c'è la gioia della danza che allo stesso tempo si accompagna alla riflessione un po' triste del testo there's no way to treat me eccetera 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 perché poi ovviamente un disco se lo ascolti così è niente se lo interiorizzi e ti ricordi quando tu pensavi che qualcuno non aveva nessun diritto to treat you that way e gli hai detto there's no way to treat me allora forse questo lo capisci un pochino meglio e poi ovviamente ovviamente io non dico che tutti debbano capire come capisco io ho un modo molto particolare io di apprezzare e ascoltare la musica però effettivamente non ho dubbi a dire che appunto ci sia una bellissima connivenza tra il groove e l'impianto canoro diciamo leggermente cingolante sulla tristezza e poi qua un disco che invece non ho comprato ma che ho tirato fuori dalla collezione perché me lo sono voluto riascoltare questo qui è un disco della MCA una produzione della MCA Records americana del 1980 by Ricci Rome Ricci Rome è il produttore del Ricci Family qui American Generation non so se voi ricordate vabbè è roba da vecchi cretinetti degli anni 70 e questo senso offesa è semplicemente un attributo che sto dando a me stesso non a quelli che ascoltano le Ricci Family attenzione però io le vedevo le vedevo quando ero bambino in televisione però questo è molto particolare questo album che al di là non è non è al di là del pop al di qua del pop ma è al di là del pop perché voi dovete sapere che Ricci Rome ha prodotto un album a suo nome che adesso non mi ricordo più come si chiama dove c'è un pezzo bellissimo tra le altre cose che è stato inserito in un sacco di compilation e di pezzi e di altre cose ma in questo African Suite che io non conoscevo e che ho comprato molti anni dopo è diciamo una sorta di pezzo molto lungo sui 12 minuti che occupa in una delle due facciate tutta la facciata del disco dove ci sono tutta una serie di groove di disco con la parola groove associato al genere disco ovviamente nei limiti di quello che è il kick for one floor della disco con una sorta di di sorta di assetto tribale disco con delle voci aah aah che mimano un po' diciamo l'afflato sessuale come si usava a fare negli anni settanta fino all'ottanta diciamo con certa disco un pochino ammiccante ed è una cosa molto interessante per ciò che riguarda l'arrangiamento di una cosa che di melodia e di armonia non ne ha tanta ma ha tantissimo ritmo e questo per chi vuol capire come si può fare un pezzo tribale con delle voci cioè con dei timbales con dei tom con delle congas e con dei bonghi con dei cowbells e con dei woodblock che cazzo puoi fare? beh se per caso avete dei dubbi avete un blocco creativo ascoltatevi questo bellissimo African Suite e che vi dà assolutamente un'idea chiara su quello che si può fare con un numero abbastanza limitato di suoni e di cui molti di essi di natura percussiva e questo è diciamo ah eccoli qua gli altri dischi scusate e questo diciamo è il modo con cui lo uso io detto questo questo disco qua l'ho suonato in diverse occasioni prima del covid nel 2019 in alcuni parti intervallato ad alcuni riedit di New Disco che qui a Londra usano molto ancora adesso tranquillamente e mi ricordo che l'effetto sulla pista era dirompente cioè nonostante il pezzo non abbia batterie elettroniche ma una batteria vera con tutti questi suoni opportunamente mixato nel momento giusto e con un minimo di equalizzazione in più sui bassi per dare un pochino più di punch sui medi per dare un pochino più di punch sulla pista su quei suoni di casse di rullante avete un disco che potete tranquillamente inserire in un set new disco anche tra 20 anni perché è un disco di cui si ricordano pochi Ricci Rom non è una figura di cui di cui c'è grossa cultura in giro sicuramente le Ricci Family le conoscono molte più persone nel mondo ma anche a Londra tu metti un pezzo di Ricci Rom tutti dicono wow che bello che cos'è quando invece questo è uno dei più grossi produttori di disco degli anni 70 probabilmente dopo i dopo i classici di Moroder i classiconi come Moroder e diciamo altri qua invece ho un altro disco che non avrei mai ecco quando ho parlato prima del fatto che una persona cambia in tanti anni di vita se ha il privilegio di vivere tanto e in salute può cambiare diciamo idea su certe cose io non avrei mai pensato di comprare questa colonna sonora e difatti non è mai stata nei piani uuh microfono scusa non è mai stata nei piani però effettivamente qua l'ho comprata per un pezzo praticamente perché questo pezzo esiste solamente su questa colonna sonora da quanto ho capito cioè non esiste adesso vi dico cos'è però il film è assolutamente secondo me anche se lo posso guardare con un moto di nostalgia per quando ero ragazzino ma anche da ragazzino questo è un film finto che mi sembra abbastanza inguardabile eh sotto tutti i progetti cioè già bistrite è difficile da immaginare come film realista immaginiamoci questo cioè questa è proprio opera di fantasia proprio a livello di fairy tale però eh questo questo disco è importante appunto per il pezzo dei Radiotron che è nel film viene suonato in un club dove le due bande si incontrano e si vogliono menare e ci sono appunto le cantanti che cantano questo riguardando il film dopo anni mi sono accorto di questo pezzo che non avevo notato quando ero ragazzo e anche qua vi si dovesse vi si dovrebbe accendere la spia rossa quanto cambiamo noi negli anni questo pezzo l'ho prestato adesso quando ho visto il film da ragazzo al cinema appena era uscito nei primi anni 80 probabilmente questo pezzo non l'ho neanche notato e non avrei mai considerato comprare il disco nuovo di Zecca nel negozio di dischi pagandolo anche meno di quanto l'ho pagato adesso che invece vale di più e effettivamente solo alla veneranda età di 45 46 anni perché l'ho comprato sette anni fa questo album o meglio scusate l'ho comprato adesso ma l'ho scoperto sette anni fa ed è stato in one list per tutto questo periodo perché dovevo comprare dischi più importanti ma poi alla fine questi ultimi mesi mi sono deciso di comprarlo è il pezzo dei Radiotron che tra le altre cose anzi scusate il pezzo si chiama Radiotron Performed by Firefox scusate il pezzo dei Firefox e che si chiama Radiotron e Firefox se non mi sbaglio adesso non vorrei dire una sciocchezza ma è un gruppo di R&B che ha fatto dei dischi di cui ho ne ho uno che si chiama Fire che è molto bello che invece ho comprato negli anni 80 perché negli anni 80 nei primi anni 80 a me piaceva il funk R&B quindi compravo assieme anche alle cose vecchie che riuscivo a recuperare nei negozi di dischi compravo anche le cose nuove e tra le tante cose che mi sono state proposte quando ero pivello a 16 anni ci fu questo Fire dei Firefox che comprai e molti anni dopo quando ebbi la veneranda età di 45 anni scoprì che avevano sulla colonna sonora di Brakes Dance 2 fatto questo pezzo che si chiama Radiotron che è bellissimo e tra le altre cose il pezzo di per sé non piace a tutti molte persone che l'hanno ascoltato l'hanno considerato una merdina a me però il groove che viene fatto fare qua con la TR 909 o 808 è assolutamente pazzesco è molto bello da produttore ho capito ho capito quanto si sono fatti il culo i Firefox per fare questo groove e hanno mantenuto anche il groove nel cantato quando a un certo punto se non sbaglio ci sono le tipe che sono Toy Overton e Paulette McWilliams due cantanti da paura che fanno just dance and get on down tra le altre cose se verrò a suonare in Italia ancora in futuro ad un party con ai party di Next One sempre che avrà la gentilezza sempre che avrà la volontà di ospitarmi e spero di sì sarà sicuramente una delle tracce che suonerò a set inoltrato perché effettivamente molto 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 groovy molto bella molto tirata e considerate anche le altre tracce che sono su questo LP il groove di questa traccia è secondo me superiore cioè il modo con cui i ritmi sono stati combinati dal programmatore dai musicisti dai cantanti come si interfacciano tutto è molto bello e poi passiamo invece qua all'interno del funk un pochino più rock power questo è un LP di cui non so assolutamente niente ma perché me lo sono comprato perché l'ho ascoltato su youtube e poi me lo sono reperito su disco su discogs scusate e me lo comprai e se non sbaglio vediamo un po' se l'etichetta è la Malaco che è qua che se non sbaglio è una sussidiaria della TK Records il pezzo è uno strano mescolare mescolamento di boogie quindi una roba dei primi anni 80 se non sbaglio con qualche riff di rock ogni tanto che va e che viene ma non è ovviamente questo il motivo per cui l'ho comprato perché di dischi così ce n'è veramente un fottio le tre ragioni sono le solite il groove di questo album è molto interessante le canzoni sono molto catchy molto molto sfiziose dopo due o tre volte che l'avevo sentito su youtube mi veniva voglia di ascoltarlo mi veniva voglia di ballarlo perché non comprarlo questo è anche un ottimo esempio per me perché ho tanti synth analogici nel mio studio e questo disco può essere usato nella costruzione di groove di boogie cioè quando io voglio fare una bella traccia di boogie ho qualche cantante non è che copio però posso prendere gli arrangiamenti delle parti così come sono stati fatti i tipi di suoni che sono stati abbinati e costruire una cosa simile per esercizio e anche per far uscire magari una cosa che magari poi in mano mia diventerà diversa come risultato finale da questo ma che ups scusa il microfono di nuovo ma che comunque non produco molto spesso perché vi sembra strano io il boogie lo ascolto tantissimo ma non mi viene tanto da produrlo però dopo aver ascoltato un album così magari un'intera giornata mentre faccio dell'altro mentre faccio il mio lavoro da vocaton solo sul background effettivamente può essere una bella ispirazione su come impostare un groove su una batteria elettronica come costruirlo come lavorarlo che tipo di basso farci sopra come doppiarlo se fare un basso col synth sopra il basso reale o se fare delle armonie con i bassi eccetera e insomma tutte queste cose che sono cose fattibili ovviamente non con lo stesso talento di una band di sei persone del 1980 ma con le capacità di un limitatissimo paolo nel 2021 bill butler and infinity hung up on you bellissimo album di soul funk adesso io capisco che molti di voi hanno la fissazione dei temptation che hanno la fissazione dei dischi della stack stack records ma chi vi può dire chi vi può dire e vi può dare contro chi vi può dire qualcosa di sbagliato su questo niente però questo qui è billy butler ed è un artista minore rispetto a quelli che ho appena citato ma l'album è parente di jerry butler che è più famoso ma qui ci sono dei musicisti anche molto bravi pensate che non ne so un cazzo io di sta roba non ho ancora letto le note di copertina l'ho ascoltato una volta da quando l'ho comprato però l'ho comprato perché di nuovo questo lo trovai su youtube ascoltai due pezzi e dissi non mi importa di sapere come sono gli altri pezzi solo per questi due pezzi lo compro poi in realtà ho ascoltato velocemente tutto l'album non appena mi arrivò nel suo bel paccone e devo dire che è un album veramente interessante non so se vale la pena per tutti di comprarlo quest'album io l'ho voluto comprare perché io ho una relazione molto speciale anzi volevo fare questo è un promo l'edizione promo poi c'è anche l'edizione legale stava un po' meno poi era più mint l'edizione promo gli dischi mi piace comprarli mint vedete se vi siete questo ve lo faccio vedere bene perché non è una cosa nota come breakdance eccetera ma vediamo un po' che anno era questo non lo dico ah 73 quindi è proprio il periodo del funk magari uno nel 73 magari cerca l'album di funk ed è effettivamente un po' triste alle volte stereotiparsi almeno per me allora preferisco andare anche molto sul soul funk che alcuni potranno dire che è uno stile più bastardo più imbastardito meno puro ma a me queste sono tutte parole in realtà il soul funk dei primi anni 70 spacca i culi e io sono ben contento che quest'album sia nelle nelle mie mani adesso perché non solo lo posso usare per il piacere di ascoltarlo ma ovviamente ci sono anche diverse parti molto interessanti di chitarra e di basso ci sono molti riff e molti lick interessanti e perché no prendere spunto e chiedere magari a qualche chitarrista che mi viene in studio di emulare un po' lo stile in pezzi ovviamente completamente diversi alla fine importare queste performance in altra musica per quello che ho capito io dopo tanti anni di produzione è solo che tanto di guadagnato e adesso chiudo questo episodio plenty of news cioè che è pieno di novità con qualcosa che invece rappresenta di nuovo una novità nel riscoprirlo più che in una novità vediamo un po' adesso se trovo la scatolina cavolo dove è finita ah eccola qua scusate ho qui bisogno di fare un piccolo un piccolo esercizio di recupero questo volevo volevo farvelo notare se non mi crolla tutto perché qua io sono circondato dai dischi che bello che bello che bello allora eccolo qua aspettate che prima di far deragliare tutti questi dischi preferisco riprendere anche questa scena pietosa ma insomma ecco qua allora questo disco che ho riscoperto in collezione che da tanto tempo ho ho qua pensate che lo comprai negli anni 80 questo ha tutta la sua storia c'era questo negozio di dischi a Milano che si chiama che si chiamava il Black Saint non so se esiste ancora che era un negozio veramente per collezionisti di jazz seri avevano degli archivi incredibili e erano erano fini conoscitori di jazz e ristampavano o stampavano delle cose loro tra le cose che hanno stampato ci sono se non sbaglio due o tre cofanetti io ne ho tre Bud Powell Charlie Parker e Billie Holiday a me Billie Holiday piace veramente tanto questo è un cofanetto che non riporta di Billie Holiday e l'ho già fatto vedere una volta ma lo faccio vedere di nuovo perché lo sto continuando ad ascoltare incessantemente non riporta le recording cioè le registrazioni classiche che già conosciamo ma quelle private ok live and private recording cioè concerti live registrati anche da collezionisti con dei con degli impianti di fortuna e conversazioni private registrate in camera in camera d'albergo o dopo dopo l'esecuzione dei live eccetera è un cofanetto di 23 album lo trovate su discogs non allora su discogs non so se trovate Billie Holiday perché mi sembra di non averlo visto però trovate sicuramente quello di Charlie Parker che è anche lì molto interessante che sono tutti live privati e live e conversazioni private con lui che non esistono su una non penso su altre pubblicazioni ci sono forse dei dischi molto rari o comunque la cui reperibilità è difficile soprattutto in buone condizioni e che vanno a 78 giri per cui vi ci vuole anche il giro a dischi specifico io sinceramente collezionare dischi jazz in originale al momento non ho cioè non ho la possibilità finanziaria non ho la capacità di tempo e poi la gestione di queste la pulizia la verifica sarebbe veramente complesso però quando ero ragazzo ebbi l'intelligenza di comprarmi sto bellissimo cofanone e tra le altre cose mi feci e mi sto facendo ancora adesso tanta bella cultura sul jazz perché esiste un bellissimo book con tutte le registrazioni contenute in questo cofanetto datate con tanto di data e con una certa precisione quindi a livello di reperto storico questa è veramente una cosa molto interessante tra le altre cose le foto sono veramente bellissime anche se in bianco e nero e anche su carta cioè io guardate qua cioè scusate come cazzo fate a non comprarvi queste cose non lo so forse sono io che sono particolare e i dischi adesso ce ne avevo fuori uno vabbè lo posso prendere dal cofano il volume 16 hanno un colore grigio molto neutro molto piatto ma vi assicuro che i contenuti sono assolutamente splendidi sono 23 album 23 album in ordine cronologico e io ho già me li metto quando lavoro faccio lavoro da avvocato me li metto su ci sono delle volte che era la registrazione così di buona qualità io ho una Dynavector come puntina quindi entra su un API entra sull'Apogee quindi tutto buona tutto abbastanza di buona qualità un pianto che mi sono costruito negli anni proprio per ascoltare i dischi e passare in digitale come volevo io e questo alle volte sembra di immergerti questo cofanetto alle volte sembra di immergerti proprio nella New York degli anni di Billie Holiday perché senti proprio il piano che parte che ce l'hai a sinistra lei che canta al centro e sembra di essere proprio lì nel pub e le volte nel club mi sono quasi smesso di lavorare e ho detto wow cioè proprio come dire queste cose che ci sembrano così non so come dire così vecchie perché sono tutti morti non c'è più quel mondo quella situazione quella roba lì quella New York di quei tempi però è come con queste registrazioni è come se potessimo quasi avere un un minimo di 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 esperienza non dico di provare quello che provavano le persone perché non siamo nel loro contesto culturale eccetera per quanto io possa aver letto libri sui teatri e e i club e le showroom di di New York e di Harlem ai tempi di Billie Holiday ma il discorso proprio che casualmente tu stai lavorando e ti ascolti una cosa e ti sembra di che qualcuno ti trascini in un'altra in un'altra dimensione in un'altra epoca è secondo me la cosa più bella e più immaginabile vedete qua è un po' rotto il cofanetto ma me lo tengo così adesso poi contatterò qualche chimico qualche specialista che magari mi aiuta a restaurarlo questo perché è veramente un'opera per cui io molto felicemente sarei contento di spendere dei soldi per mantenerla in discrete condizioni ecco volevo condividere con voi queste cose molte anzi penso tutte le cose che ho recensito in questo episodio le trovate su discogs ma le trovate anche altrove su internet forse l'unica cosa che non si trova è l'originale in vinile di Billie Holiday ma mi sembra di aver visto su discogs l'edizione in cd e qui ritorniamo a un vecchio discorso che è quello che faccio io sul digitale o sull'analogico non ha senso dire se è meglio il digitale o se è meglio l'analogico però se uno vuole avere queste registrazioni di Billie Holiday ascoltarsele in casa e incorporarle nella propria collezione mettersele sull'iTunes di tanto in tanto metterle su se lo vuole fare io di certo non te lo rippo non ve lo rippo se lo deve comprare in digitale in cd e quindi ovviamente il cd diventa necessario quando il supporto che contiene queste registrazioni di nicchia però di un grandissimo artista che rivelano anche la grandezza dell'artista in situazioni diverse da quelle classiche dello studio di registrazione diventa diciamo necessario acquisirlo su un formato fisico che magari noi non riteniamo molto interessante per non dire completamente inutile perché molti dicono il cd non ha più senso nel mondo del digitale invece no perché se quell'opera se lo faccio solo su cd poi tu la puoi trasportare su un modo digitale e poi anche regalarla a tutti ma per quanto tu regali a tutti questa roba qui ci sarà sempre qualcuno che vede il video e non ce l'ha e come fa? eh se ha qualche soldo si compra il cd e se no sta senza perché su Spotify non c'è su iTunes non c'è e non c'è da nessun'altra parte in digitale almeno in digitale assoluto in digitale senza fisico poi se trovate un sito dove questa cosa è in vendita in digitale fatemelo sapere perché magari questo sito questo portale questo negozio potrebbe avere anche delle altre cose molto rare che effettivamente solo loro mettono in in full digital e che io mi comprerò a questo punto anche in full digital eh in full digital perché oggi ovviamente qui parliamo di cose e ricordiamoci molto che gli anni 80 e gli anni 90 è vero che sono epoche che sono finite e strafinite però quello che è stato prodotto negli anni 80 e negli anni 90 deve essere ancora riscoperto adesso voi ditemi tra tutte le cose che io vi ho fatto vedere se le conoscevate tutte e io farò altri episodi dove tirerò fuori altri dischi a seconda che li compri o che li riscopra e ve li farò vedere così voi potete di vostro conto ascoltarli e dire beh che brutto wow che bello però almeno sapete che c'è perché su youtube questo non so neanche se c'è da ascoltare purtroppo spero per voi che ci sia qualcuno che lo metta ma i dischi che ho acquistato alcuni li ho scoperti su youtube quindi anche voi potete scoprirli su youtube e poi decidere se devono diventare e far parte della vostra collezione oppure no però la cosa molto importante è poter scegliere e non si può scegliere se si prescinde da questi formati in alcuni casi non in tutti i casi perché in alcuni casi Spotify e altri media hanno tutto quanto però ricordiamoci molto bene non si butta mai il bambino con l'acqua sporca per cui un collezionista completo nel 2021 ha tutti i formati incluse le cassette perché ci sono delle cose che adesso non ho che esistono solo su cassetta se le vuoi ascoltare te le compri in cassetta perché non li trovi a meno che non trovi qualcuno con cui scambiare tutta la tua roba che ha quelle cose che te le ripie te le passi in digitale ma tu devi avere però già una barcata di roba da dare a questa persona e di solito quando si scambiano file con collezionisti si scambiano file di dischi rari che non sono in circolazione perché sennò questa persona se li trova tranquillamente online più o meno gratuitamente o a prezzi minimi e se li compra anche perché un collezionista è abituato a spendere soldi per i dischi e quindi sia che sia un collezionista di puro digitale o di fisico e digitale sa già che se una cosa la vuole se la compra e quindi il discorso finisce qui detto questo io spero che con questi episodi dove vi consiglio qualche disco e aggiungo un po' di contesto non vi siano troppo indigesti ricordatevi che questo canale HHS28 è stato creato proprio per parlare di cose personali e di parlare di cose che non hanno a che vedere necessariamente col mondo dell'hip hop o di altre cose più specifiche di cui ogni tanto parlo una delle cose in cui sono anche tanto cambiato in quest'ultimo anno nel 2019 in questi ultimi due anni dal 2019 al 2021 ho capito che la mia felicità la facevo anche se parlavo di altre cose che non avevo mai diciamo diffuso di cui non avevo parlato prima quando era ancora sul sito di The Man in Red su questo sito mi piace anche mettere più in gioco me stesso parlare di dischi che mi piacciono proporvi delle cose che io ho e che magari potrebbero anche farvi schifo darvi delle pillole di quelle che sono le cose che faccio di quelli che sono i libri che leggo dei dischi che ascolto eccetera eccetera perché penso che se ci fossero tanti youtuber che facessero così youtube sarebbe ancora più interessante di quello che è comunque io seguo molti youtuber che che collezionano topolini e fumetti rari che collezionano dischi e danno i loro i loro consigli che collezionano che le collezionano e leggono libri o che non li collezionano ma li leggono e li raccomandano eccetera eccetera perché a me piace imparare come spero che piaccia a me spero anche che piaccia a voi signore e signori adesso io vado a produrre un po' di musica è stato molto bello parlare con voi ho la voce che sta andando giù e mi brucerà un po' la gola ciao ciao ciao